Una delle richieste che ricevo maggiormente riguarda le cuffie, le cuffie da utilizzare in ambiente ibrido, quindi quando si è a casa per essere isolati, per avere una buona qualità sia dell'audio in ingresso che nell'audio in uscita, quando si è in ufficio, perché ormai le riunioni si fanno in maniera ibrida, quindi magari dalla propria postazione ci si connette con qualcuno, oppure magari, non so, in un treno o insomma in un altro spazio. Ecco, questa è una prima risposta, sto parlando di questo prodotto che è il Volvo 275 di Jabra, che è un prodotto sicuramente molto interessante, perché? Perché ha delle caratteristiche che a me sono particolarmente piaciute. Passiamo alla confezione, partiamo proprio da qui la confezione, le apro, All'interno c'è, nascosto, un USB per il Bluetooth. Ma detto questo, passiamo alle cuffie, le cuffie che sono davvero, davvero confortevoli, ben costruite, ben realizzate, come vedete i bottoni, ci sono anche, trovano spazio anche, la possibilità di attaccarla a una docking station, molto molto morbido, e quindi già questo garantisce un isolamento automaticamente perché le abbiamo indossate. Come potete notare, veramente il comfort è stato curato nei minimi dettagli. Ci sono i bottoni ovviamente per collegarsi, il microfono è a scomparsa, quindi se lo metto così solo in muto, ma se lo abbasso ovviamente parlo, ed ecco esattamente come funziona, come viene. Adesso cambio con un clic l'audio e passo dal microfono professionale a questo microfono. Non è un microfono solo, questa cuffia, la Evolve 2 75 di Jabra, ha 8 microfoni che permettono la cancellazione dell'audio. Prima di tutto l'accendo e cambio il settaggio dell'applicazione con cui sto registrando, in modo da poterla utilizzare. Ho passato a questo microfono, quindi insomma sicuramente la qualità cambia. Ripeto, 8 microfoni che permettono di cancellare l'umore, si può cancellare l'umore semplicemente con il tasto che è posto qua dietro e permette quindi di fare in modo che passi tutto l'audio fuori, che possa essere abbassato o essere utilizzato in maniera diversa. Questo permette di avere una sensibilità diversa, di anche magari semplicemente ascoltare della musica e poter rimanere concentrati. Questo è il cuffio Jabra, si connettono automaticamente con tutti i migliori sistemi di comunicazione, quindi Teams, Meet, Zoom e via di seguito, e sono soprattutto riconosciuti. Ok, ripasso l'audio normale per poter togliere le cuffie. Passiamo alle cose che mi sono piaciute. Beh, intanto questo bottone che permette di entrare in comunicazione, quindi all'interno della nostra applicazione di comunicazione in tempo reale, quindi clicco, rispondo, sono già online. Il comfort, veramente eccezionale, anche se tenute per ore non danno fastidio, pesano relativamente, sono leggerissime, però non hanno neanche un peso eccessivo, e sono veramente comode sotto questo aspetto. Mi è piaciuta la batteria perché con una ricarica di 15 minuti si ottene 4 ore di autonomia, permette di avere con le INC, quindi la cancellazione del rumore, molte ore, più di una giornata, quasi due giornate di utilizzo intenso. Si possono quasi fare 35 ore di ascolto di musica con la cancellazione del rumore, quindi per rimanere concentrati, quindi veramente tantissimo tempo. Mi è piaciuta la praticità, si collega al Bluetooth veramente in tempo reale ed è subito funzionante. Mi è piaciuto perché con questa confia posso utilizzare il PC, ma posso anche utilizzare il telefono, quindi posso connettere contemporaneamente a due dispositivi, quindi posso ottimizzare l'utilizzo di due dispositivi, quindi se ho una chiamata che arriva sul computer la prendo subito, se arriva dal telefono la prendo subito, e quindi questo mi permette di avere una grandissima flessibilità senza dover togliere le cuffie, cambio cuffie e quant'altro. Sono cuffie ovviamente pensate per il lavoro, per il lavoro ibrido, per il lavoro moderno, il costo non è esattamente piccolo, però la qualità sicuramente dimostra che può valerne la pena, e nel momento in cui le provate non ne potrete fare a meno, perché il comfort, la cancellazione del rumore e quant'altro dicono che queste cuffie sono veramente eccezionali. Jabra chiaramente ha lavorato moltissimo sull'aspetto dell'audio, sull'ottimizzazione, sulla possibilità di utilizzare queste cuffie in più modalità, quindi non solo per il lavoro ma anche per sbaglio. Io ho fatto una chiamata su un treno, quindi avevo della gente di fianco, parlavo piano eppure funziona. Rispetto alle versioni precedenti, il microfono è diventato un pochino più corto, quindi questo microfono è diventato un pochino più corto. L'altra cosa che è molto carina per capirci e per capire il livello di comfort è che, non so se riesco a mostrarlo, è basculante anche il cuscinetto intorno alle cuffie, proprio per avere una sensazione di comfort e di copertura più ampio. Quindi non mi resta altro che ricordarvi il prodotto che è Evolve 2.75 e di Jabra. Grazie.